È per scongiurare un altro 2011 che abbiamo provato in tutte le forme a dare un governo politico a questo Paese e se c'è buona volontà si può ancora fare. La mia non è una speranza, non è un auspicio, ma è la forza della coerenza che abbiamo portato avanti in questi due mesi. Se non ci dovessero essere le condizioni per un governo politico in questo Paese, cioè connesso ai problemi delle persone, consapevole dei problemi degli italiani e che non faccia solo quadrare i conti, allora per noi si deve tornare al voto. E si deve tornare al voto nella consapevolezza che sarà un ballottaggio, perché adesso è chiaro che ci sono due realtà politiche che competono per andare al governo del Paese e gli italiani decideranno nelle prossime elezioni politiche.